questo video lo voglio dedicare ai giovani giovanissimi che non ascoltano questi video nel senso che so benissimo che uno come me ai giovani appare già vintage io ho qualche nipote e mi viene detto no sono vintage perché dedicarlo ai giovani perché parlare ecco diciamo meglio noi che non siamo più giovani parliamo dei giovani perché questa generazione intendo giovanissimi dai 18 ai 25 26 anni è il frutto di una educazione di una istruzione che ha distrutto la cultura che ha educato i giovani al non sapere purtroppo dico naturalmente un discorso generale che non vale per tutti vedevo la short di quella ragazza che aveva rifiutato il lavoro per 900 euro al mese e aveva per così dire tra virgolette accettato poi un aumento fino a 1300 euro l'aveva mandata gramellini qualche domenica fa io l'ho vista dopo su questi video su internet e si vantava del fatto che era stata lei ad imporsi per un aumento di stipendio di che passava dai 900 ai 1300 euro e diceva siamo noi che dobbiamo alzare la sticella eccetera ecco è proprio questo tipo di impostazione del problema che ci fa capire questa ragazza se non sbaglio è laureata in ingegneria civile ci va a capire come anche un livello di istruzione relativamente alto qual è quello conferito da una laurea in ingegneria civile non garantisce il fatto che un giovane sappia di che cosa sia di quale sia il mondo in cui si ritrova a lavorare questo perché perché avrà studiato diciamo ha studiato ciò che riguarda le sue competenze e quindi in quanto individuo politico in quando in quanto appartenente ad una comunità politica egli ignora tutto ciò che ha preceduto la sua storia personale e ignora quelli che sono le condizioni della politica che l'hanno portato in quella situazione la situazione in cui si trova di fatti questo è per così dire il frutto dell'ideologia del capitalismo del neoliberismo in cui il giovane senza saperlo si trova coinvolto si trova immerso perché è l'unica bene o male l'unica ideologia in cui egli si trova coinvolto e se non si hanno per così dire o non si è portati ad una critica della società se non si ha questa possibilità tutta questa ideologia viene assorbita e diventa connaturata al pensiero sia al pensiero del giovane più istruito sia al pensiero del giovane meno istruito il neoliberismo si fonda sulla meritocrazia dicono no si dice il neoliberismo è fondato sulla meritocrazia il neoliberismo si fonda sulle competenze e tutto questo dovrebbe portare questo meccanismo dovrebbe portare benessere all'intera comunità il neoliberismo è sostanzialmente un pensiero economico un'ideologia economica ed il fondamento di questa ideologia perché di ideologia si tratta non è che la verità calata dal cielo si tratta di un'ideologia ed il fondamento di questa ideologia è un fondamento storico e questo fondamento storico consiste nel mantenimento e nel conservare l'egemonia degli Stati Uniti d'America sul mondo da questa insistenza viene sia l'ignoranza del giovane e sia la guerra in Ucraina dico questo perché questa coscienza non è una coscienza diffusa si può avere per questioni di esigenze che si presentano nella vita quotidiana si può avere l'istinto alla critica di questa società ma poi le esigenze quotidiane di vita fermano questo tipo di critica il giovane o una parte dei giovani è convinta magari che la politica possa in qualche modo cambiare la situazione questi partiti politici possono cambiare la situazione quando è venuto il momento delle votazioni ho consigliato di non andare a votare perché è inutile, è perfettamente inutile ma anche questo ha un fondamento storico se ce ne sarà tempo vi farò vedere in alcuni video qual è il fondamento storico del fatto di decidere di non andare a votare per quanto riguarda per esempio l'Italia purtroppo non vi è una cultura economica cioè una cultura che riguarda l'economia tra i giovani o se ce ne è ce ne vi è una monocultura economica che è quella sovvenzionata da questo stesso sistema neoliberista vi è una cultura ambientale che è una cultura anche questa viziata all'origine viziata all'origine perché si crede che attraverso nuove tecnologie si possa risolvere si possano risolvere i problemi del clima ed il giovane con questo mi per esempio mi riferisco ai ragazzi di ultima generazione che probabilmente sono voglio pensare che siano ingenui perché se si pensa che con le tecnologie green proposte oggi si risolva il problema del clima non ci si accorge che questo tipo di pensiero e questa soluzione è guidata dagli investimenti di chi quelle tecnologie le ha promosse costruite e continua a promuoverle perché vi è in questo una convenienza economica ed inoltre vi è nell'utilizzo delle tecnologie green la parziale possibilità di rendersi indipendenti dal consumo di gas per esempio russo, petrolio e quindi anche questo è legato a questa divisione del mondo in due che è voluta dagli Stati Uniti d'America tutti questi pensieri che sono per così dire tutti correlati insieme ed il giovane questo non lo sa a 19 anni si ritrova a dover scegliere per esempio dopo aver fatto il liceo in Italia diciamo oppure una scuola superiore a dover scegliere che cosa fare nella sua vita allora che cosa fa? si parla di ambiente si parla di clima e beh un ragazzo magari in gamba dice vabbè scelgo di fare ingegneria indirizzo energetico e per esempio si fa i suoi cinque anni di ingegneria di indirizzo energetico perché vede che questo qui oppure fa che ne so se è bravo in certe materie deciderà di fare che ne so ingegneria indirizzo di automazione oppure c'è stato l'espluat delle iscrizioni in medicina che sono a circolo chiuso tra l'altro in Italia questo non si capisce perché non ho seguito nel dettaglio tutta la questione ma se c'è carenza di medici perché mettere il circolo chiuso perché consentire soltanto ad alcuni di studiare medicina perché le strutture non reggono tutti gli iscritti e allora bisogna fare i test universitari prima di entrare qualcuno può entrare qualcuno no per garantire una certa dicono loro per garantire diciamo un certo livello di istruzione di studio a chi poi paga le tasse e va all'università in Italia in particolare si dice che i giovani non hanno competenze in poche parole ci può essere soltanto qualcuno che ha delle buone competenze e poi si dice per la maggior parte la preparazione nelle università italiane è una preparazione che non va bene eccetera e quindi anche questo diciamo anche questo magma di parole che mirano a parlare male dell'Italia no? mirano a parlare male della cultura italiana in tutti i suoi aspetti e il giovane come la deve prendere cioè perché necessariamente se il giovane sente sente dire che è necessario spostarsi dall'Italia andare in America Francia Inghilterra dove volete voi basta che te ne esci fuori dall'Italia qualcuno ha detto va pure in Spagna in Spagna perché la Spagna è un grande paese pure in Portogallo vai dove vuoi basta che te ne esci fuori dall'Italia ora il problema è il giovane pensa all'ultimo che questo corrisponde alla realtà cioè che le cose stanno realmente in questi termini sento parlare ma l'Italia ormai non vale niente non c'è c'è niente da fare qui qualcuno mi ha detto ma che volete fare con il greco che cosa volete fare con il latino la filosofia ma per favore ma eliminate la filosofia ormai sta diventando un luogo comune il fatto che studiare filosofia o pensare in senso filosofico non vale nulla cioè qualcosa che non porta a niente e che non ha nessun peso questo qui sente dire il giovane e il giovane segue è affascinato magari da chi lo dice e quindi segue questi consigli poi vanno all'estero poi si ritrovano a vivere che ne so a Bruxelles a Londra in Inghilterra capito oppure vanno in America si ritrovano a vivere in America e qualcuno proprio in gamba va a finire in America fa il ricercatore in Islanda a Copenhagen e poi l'incontro non vedo qualcuno di questi giovani bianchi come la carta smagriti salute com si com sa benessere com si com sa ne ho conosciuto uno mai anni fa ormai non è più giovane Dore Dore e lui lavorava nelle centrali nucleari nel nord dell'Europa non vi dico in particolare e lui dopo 20 anni che era stato a lavorare lì aveva fatto cioè ha fatto una famiglia e tutto dopo 20 anni mi fa ma all'ultimo non è valsa proprio la pena ecco questi sono i conti che qualcuno fa ma non per una questione personale non per una questione personale non è valsa proprio la pena a livello di vita che si è condotta esclusa per così dire escluso il prestigio escluso il prestigio che dà il lavoro che è un racconto che uno fa se stesso all'ultimo non è valsa la pena lui era sardo è sardo lui è sardo dice sì naturalmente all'inizio è bello soddisfi il tuo diciamo il tuo giusto narcisismo hai successo guadagni bene però in cambio fai una vita che ha poco a che vedere con quello che tu ti aspettavi hai visto il mondo tutto eccetera ma in cambio hai fatto una vita che ha poco a che vedere con quello che tu ti aspettavi va bene si può dire questa qui è una diciamo una versione troppo particolare c'è magari chi rimane soddisfatto di quel tipo di vita diciamo che gli ha offerto tutto questo forse in passato questo era possibile però io vi consiglio prima di ecco il consiglio che due giorni prima di fare delle scelte prima di fare delle scelte di andare a guardare a vedere concretamente qual è la vita che fanno per esempio i ricercatori in Inghilterra qual è la vita che fa il ricercatore che ne so in Danemark qual è la vita che fa il ricercatore in America di andarli a visitare di andare a vedere qual è la vita che vi aspetta fare che voi dovrete fare e prendetela poi la decisione ecco non immaginate semplicemente quello che sarà la vostra vita no ma andate lì a vedere qual è la vita che dovrete fare qual è se c'è il benessere che vi aspetta e poi decidete se andare a fare un po' d'agricoltura e non ve lo dico per scherzo non è non è uno scherzo quello che vi dico e oppure voglio dire decidere se veramente volete fare quella vita non vi fidate della vostra immaginazione questo lo dico a quei giorni che sono un po' più vicini a me no io vi dico andate a vedere qual è la vita che vi aspetta e poi decidete fatevi quattro soldini fatevi dare dai vostri parenti fatevi quattro soldini durante l'estate e poi andate quindici giorni a vedere qual è la vita del ricercatore al MIT per esempio c'è un ragazzo che mi sta confiando la testa e dice vuole andare al MIT bravo sì va bene bravo benissimo superi test olimpiadi di matematica eccetera sono d'accordo per precisamente farlo però prima di vai a vedere qual è la vita che fa un ricercatore al MIT ok se quel tipo di vita che quella persona fa ti può davvero interessare allora continui su quella strada lì ma se quel tipo di vita non ti interessa se tu vedi che realmente quel tipo di vita non vale la pena farla beh allora prendi altre fai altre scelte e comincia a chiederti chi è che promuove quel tipo di vita lì conosco dei giovani che sono andati che ne so in Australia per emigrazione attenzione erano gente laureata in economia che è andata in Australia però è difficile ottenere che ne so avevano i tre triennali di economia in Italia è difficile ottenere cittadinanza in Australia allora si comincia con il raccogliere frutta con l'allevare pecore eccetera e beh dopo un anno sono rientrati perché 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 erano scemi no perché la fatica che si fa la fatica che si fa a fare la gavetta per poi riuscire a fare una vita normale beh a quel punto si sono resi conto che non vale la pena diciamo che sono scelte che possono valere per qualcuno per qualcuno e poi se ci sarà tempo vi farò leggeremo insieme uno scritto di Peter Sloterdijk dove Peter Sloterdijk analizza per esempio il tipo di persona che è andata a popolare gli Stati Uniti d'America sono quelli che noi in italiano diciamo gli scappati di casa nel senso che hanno una condizione tale che vogliono scappare dalla situazione in cui si trovano per trovarne un'altra a parte le grandi emigrazioni eccetera qui stiamo parlando di particolari giovani che vogliono cercate indagate andate a vedere che vita fanno quei pochi italiani che erano stati nella Silicon Valley quei pochissimi andate a vedere i commenti le vite che hanno fatte indagate sulle biografie vedete nel particolare se ne vale la pena rinunciare ad un certo benessere che in Italia ancora c'è e che vi viene raccontato come se fosse niente per andare a fare la vita degli scappati di casa all'estero solo per il privilegio di dire beh sono un ricercatore o sono una ricercatrice indagate bene prima di fare queste scelte e vedere se veramente ne vale la pena io ho parlato con qualche ragazza che è stata ricercatrice in Canada in biologia e dopo la fine del ciclo di ricerche che ha fatto mi ha detto al punto di vista umano cioè non c'è niente che valga la pena di staccarsi dal proprio paese andare lì tra l'altro pure freddo la madonna cioè staccarsi dal proprio paese dal proprio luogo d'origine diciamo andare lì lavorare fare il ricercatore sì hai la soddisfazione ma questa la soddisfazione dal punto di vista della ricerca dal punto di vista ma poi mi diceva è un privilegio che ha il valore cioè che ha un certo valore indiscutibilmente ma insieme a te ce ne sono altri duemila cioè non è che la scienza la scienza ormai la scienza nella sua operatività tecnica ha degli operai ultra specializzati che sono i ricercatori tra l'altro cioè che hanno particolari contratti no poi qualcuno di questi diventa direttore di un altro settore di ricerca si fa i soldi cerca di portare dentro cerca di portare dentro questa dentro la ricerca dei diciamo dei giovani ricercatori eccetera dopodiché questi devono andare a trovare pane o lavorano per altre aziende escono fuori dal campo della ricerca pura e vanno a lavorare per altre aziende nel momento in cui questi entrano lavorare per delle aziende farmaceutiche io faccio un esempio beh loro sono entrati nel vero e proprio circuito economico dove le decisioni non le prendono loro nella maggior parte dei casi si devono come dire assoggettare alle politiche aziendali quali sono queste politiche aziendali possono per esempio riguardare la costruzione artificiale dei cibi parliamo dal punto di vista biologico eccetera la costruzione artificiale dei cibi di che cosa sono ubriacati quindi questi ricercatori per esempio facendo degli esempi non posso fare i nuovi ricercatori che poi si mettono a lavorare per delle aziende private che sono case farmaceutiche oppure nuove aziende legate alle case farmaceutiche legate alla produzione di alimenti artificiali loro lavorano e si alienano sapete perché? perché loro sanno che quello che stanno loro costruendo a parte gli entusiasmi iniziali è qualcosa che ha semplicemente un motivo di carattere economico si tratta di investire per esempio stiamo facendo un esempio si tratta di investire sulla costruzione di alimenti artificiali per andare ad aumentare i profitti di una certa azienda il motivo quali sono i motivi per cui vi è un'azienda che investe in in queste costruzioni di alimentazione artificiale chiamali insetti chiamali reattori per le proteine chiamale come vuoi si tratta di un mezzo di produzione che costruisce cibo semplicemente questo un mezzo di produzione che costruisce cibo il tecnico chi è? l'ex ricercatore che ora è diventato un operaio specializzato molto ultra specializzato alle dipendenze del capitale che gli comanda il lavoro per la costruzione di cibo artificiale questa costruzione del cibo artificiale deve andare a sostituire il cibo naturale l'alienazione di queste persone qual è? quella di dire noi stiamo costruendo l'inferno in terra noi stiamo costruendo l'inferno in terra e di non poter dire di no perché ormai di non potersi rifiutare di farlo perché ormai ti sei abituato ad un certo stile di vita cominci a dire se non lo faccio io lo fa un altro e quindi continui a fare quello che devi fare non lo puoi nemmeno dire ecco perché non posso fare i nomi perché sono delle aziende che poi non puoi parlare male dell'azienda dove tu stai lavorando ed eccola qui dove il cane che si morde la coda quindi ad un giovane uno che cosa deve dire state attenti pensateci bene pensateci bene prima di fare delle scelte ok era solo un video per fare quattro chiacchiere grazie e al prossimo grazie a tutti